Ciao a tutti e benvenuti nel mio laboratorio di panificazione. Il mio nome è Filippo, nei video che troverete sul canale io cercherò di illustrarvi tutti i vari accorgimenti che io uso nel fare tutti i prodotti inerenti alla mia attività. I video sono dedicati anche a te, che per dire non hai mai montato due uova, male, e anche a magari qualche professionista, qualche mio collega che, boh, non si sa mai, magari prende qualche spunto. Insieme faremo dai prodotti salati a quelli di pasticceria, biscotti, anche pasticceria più complessa come cannoncini, torte da compleanno, torte farcite, tutto quello che interessa i prodotti da forno. In particolar modo la mia chicca, il mio cavallo di battaglia sono i grissini all'olio che non vi preoccupate, li faremo a breve in un prossimo video. Spero di essere stato abbastanza chiaro, mi trovate su Instagram, metto il link in descrizione, così potete vedere tutte le varie foto delle mie creazioni, delle ricette e quant'altro. Mi raccomando iscrivetevi al canale se vi fa piacere per restare aggiornati alla pubblicazione di nuovi video e attivate la campanella così vi viene più semplice il tutto. Ciao e grazie!